Benvenuto su Gossip in the News. Prima di aggiornarti sulle ultime notizie ti invitiamo a iscriverti al canale. Per noi il tuo contributo è importante. Grazie di cuore. Attraversiamo verosimilmente la fase più critica delle infezioni respiratorie, una combinazione tra l'influenza classica, nelle sue molteplici forme, e le nuove varianti del Covid. Dovremo superare le festività, che aumentano i contagi, per comprendere la situazione che ci troveremo ad affrontare a gennaio. Sfortunatamente, le varianti del Covid e l'influenza si sono manifestate contemporaneamente. Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell'IRCS ospedale Galeazzi Sant'Ambrogio, fa il punto con affaritaliani.it su Covid e influenza. Attualmente, abbiamo un milione di persone affette da infezioni respiratorie, siamo al picco massimo. E purtroppo, abbiamo registrato 515 vittime nell'ultima settimana, è probabile che, entro sette giorni, supereremo quota 600 decessi per il Covid durante il periodo di Capodanno. E per il 2024? Purtroppo, il Covid rimarrà con noi, seguendo un percorso simile a una pietra che crea onde nello stagno. La tendenza per gli anni a venire dovrebbe essere al ribasso, salvo l'insorgere di nuove varianti impreviste e pericolose, una eventualità che non possiamo escludere, conclude Pregliasco. E tu cosa ne pensi di questa previsione? Faccelo sapere nei commenti. A presto!